Ben trovati, un piccolo break per informarvi che gli atti dell'indagine della procura di Tivoli sulla compravendita dei calciatori avvenuta fra la Lazio, la Salernitana e la Salernitana verranno trasmessi al procuratore fedele della FGC Chinè. Nel procedimento risultano indagate sette persone, tra cui il presidente della Lazio Lotito, che oggi è senatore, il direttore sportivo del club bianco celeste Tare e sotto la lente dei magistrati di Tivoli, che hanno affidato le indagini alla guerra di finanza, ci sono sette operazioni di compravendita dei calciatori fra i due club, Sprocati, Casasola, Marino, Cicerelli, Novella, Morrone e Acpro. Quindi resta da capire come si muoverà a questo punto la giustizia sportiva, nel senso se si riunirà per giudicare e per dare sanzioni anche alla Lazio, seppure riterrà queste operazioni cosiddette di plusvalenza assolutamente lecite perché non atte fraudolentemente a fregare il sistema oppure a giudicare la Lazio leale da un punto di vista sportivo. Lotta in tutti i sensi perché ricordiamolo, noi adesso abbiamo ad aprile questa pronuncia da parte del Collegio di Garanzia del CONI che se nell'ipotesi, remota o non remota, annullasse la penalizzazione, noi saremmo al secondo posto, pericolosissimo, ce ne rendiamo conto. perché sarà solo poi il primo atto, faccio un piccolo reprise di una serie di accuse da cui la Juventus deve difendersi, la prima è la questione plusvalenza che lo sappiamo perfettamente, in maniera molto arbitraria è stato deciso che sono fraudolente. Poi c'è la manovra stipendi e per ultima messa ad arte la questione partnership che in realtà tutto potrebbe essere gestibile ma sappiamo perfettamente come la giustizia sportiva si sta muovendo. Quella delle partnership è forse la cosa più campata per aria, consentitemi. E quindi è così. Ieri abbiamo visto la mossa della nomina a vicepresidente dell'UEFA, abbiamo capito come vanno le questioni con Gravina insieme all'odiatore seriale, che è diversamente odiatore, come si dice, che è Ceferin. Comunque, lo ribadisco, gli atti della procura di Tivoli sulla compravendita di calciatori che è avvenuta fra Lazio e Salernitana, verranno trasmessi al procuratore Chinè che affilerà le armi e farà giustizia. Molto curioso e credo che siate curiosi anche voi. Ci vediamo presto.